Allora, siamo al voto disciplina, è una partita molto tirata, ma lasciamo perdere l'aspetto tecnico, l'aspetto comportamentale. Da chi cominciamo? Io penserei di darci 6-7. No, no, tu devi dare il voto a loro, poi loro ci pensano loro a darlo a voi. Quindi, da chi cominciamo? Da lui che è più grande. Da lui? Sì, io direi voto 7, perché un po' di parlamentari ci sono state da parte loro, ma... Ok, quindi un 7, insomma, per la disciplina. Cioè, perché io non vorrei dare anche perché valga per tutte e due. No, no, meglio, no, ognuno dà per quell'altro, liberamente, perché lo sapete, intanto problemi non ci sono. Allora, visto la partita, cioè, visto la partita, il palo sono stato, cioè, è stata una partita aggressiva in tutti e due i campi, in tutti e due i lati, e penso che il 7 va bene anche per l'altro lato, perché, cioè... Quindi concordi con la sua idea di scambiarvi il 7? Bene, bravi ragazzi, fermi! Bocca all'uso!